In una società in evoluzione, a fronte di nuovi linguaggi, strumenti, sensibilità e fenomeni sociali, i Comitati Regionali per le Comunicazioni si propongono quali presidi territoriali a supporto dei cittadini e dei media. E' quanto è emerso nel convegno che si è svolto a Potenza per i 15 anni della legge istitutiva del Corecom Basilicata, un appuntamento patrocinato dall'Agicom e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti per i crediti formativi degli iscritti. L'esperienza del Corecom Basilicata viene considerata positivamente nel panorama nazionale anche per la collaborazione ormai consolidata con l'attestata regionale della RAI per l'edizione del telegiornale Nella lingua dei segni e per quella più recente che ha portato alla definizione di un nuovo prodotto di informazione istituzionale, il TG Web settimanale LIS del Consiglio regionale. La Presidente Giuditta Lamorte ha illustrato quanto fatto dal Corecom anche alla luce del lavoro dei precedenti comitati, insegniti i precedenti presidenti. Nel porre l'accento sul rilancio del ruolo del Corecom, il Presidente del Consiglio regionale, Piero Lacorazza, ha auspicato l'avvio di una riflessione su funzioni, criteri di nomina e componenti dell'organismo, anche in vista di quel principio di ricentralizzazione che le riforme costituzionali potranno introdurre. Grazie. 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 Grazie.